Marco si ritorna in campionato dopo la solita vittoria potremmo dire quest'anno in Champions League sono arrivate conferme anche a Baku, adesso tu le cerchi ovviamente anche in campionato Sì, ripartiamo con il solito percorso cioè quello di cercare di dare continuità al nostro cammino in campionato veniamo da una trasferta molto impegnativa soprattutto sotto il punto di vista fisico perché come sapete il viaggio chiaramente impone uno stress che solitamente non si ha detto questo sapevamo che faceva parte del gioco adesso abbiamo iniziato già da ieri a lavorare sulla squadra e oggi iniziamo a preparare Montichiari per cercare comunque di dare quel discorso di continuità di successi e comunque di punti importanti per la classifica finale Montichiari è squadra che milita nelle parti basse della classifica però ha tirato fuori sempre con una squadra importante, prestazioni importanti, ha anche risultati e ha vinto anche all'andata qua al Palapanino Sì, Montichiari in questo momento sta avendo un buon periodo, un buon periodo dettato da un buon gioco e sicuramente sono più serene sotto il punto di vista mentale, si vede detto questo sappiamo che, anzi so che Montichiari è la bestia nera di Modena quindi è uno stimolo in più per far bene, sappiamo che non sarà semplice sappiamo che loro giocheranno alla morte ma sappiamo anche che con i nostri mezzi se manteniamo appunto quell'ordine, quella disciplina durante tutto l'arco della partita possiamo dire la nostra Stasera gioca Buster Seeds, la prima squadra davanti in classifica però insomma sia loro sia Scandicci nonostante il passo falso della scorsa settimana a Bergamo sono sempre ancora molto vicini Sì, noi non dobbiamo pensare agli altri, noi dobbiamo pensare semplicemente a far bene le nostre cose non dobbiamo pensare a una gara, dobbiamo pensare a un set addirittura dobbiamo pensare a poche azioni una dietro l'altra perché altrimenti iniziamo a entrare in quel meccanismo che ci porta a perdere la continuità e la concentrazione quindi è vero che la classifica per quanto riguarda le posizioni intermedie chiamiamole così, è abbastanza corta però se guardiamo loro perdiamo il nostro obiettivo cioè quello di giocare nel miglior modo possibile quindi pensiamo a noi, pensiamo a far bene le nostre cose poi dopo, come ripeto, al termine dell'ultima giornata vediamo dove siamo e ripartiamo per un nuovo campionato Non è strettamente collegato, sarà la chiusura di questo Tour de Force la Final Four di Coppa Italia però si stanno registrando grandi prenotazioni grandi fermento in vista di questa importante trasferta qualche vittoria in più magari può anche avvicinare al Palapanini tutto questo entusiasmo durante il campionato Beh, ho sentito e mi fa molto piacere perché vedere che il pubblico di Modena si sta iniziando ad avvicinare alla squadra è sintomo che stanno cercando di supportarci anche in un momento in cui sì, è vero che in Champions facciamo bene ma in campionato facciamo fatica specie poi non siamo sicuramente aiutati dal fatto che non giochiamo quasi mai la domenica in casa per via del fatto che ci sono anticipi, partite in trasferta e via dicendo Detto questo, come dicevi tu, è importante far sì che la gente si innamori di questa squadra per farlo bisogna vincere, è una legge sportiva ed è giusto così quindi dobbiamo cercare di ottenere punti per la classifica punti per i nostri tifosi affinché ci seguano numerosi in quel di Firenze perché sarà una due giorni molto molto intensa e molto importante